E' ben trovati con l'informazione di TRMH24. In primo piano la politica, nuovo scossone nel PD con le dimissioni ieri del segretario del circolo del municipio 2 di Bari, Nicola Biancofiore, che annuncia il suo sostegno al candidato Michele Laforgia. Ascoltiamo. Ancora terremoti all'interno del PD barese. Dopo le dimissioni della presidente dei DEM di Bari, Titti De Simone, a lasciare ora Nicola Biancofiore, segretario del circolo del secondo municipio, Carrassi Poggio Franco, dove Elislein vinse il congresso, uno dei due circoli principali della città. Biancofiore è delegato del sindaco De Caro ai diritti civili. Anche io sostengo Laforgia. Questo partito soffoca il pensiero e non include, commenta. Mi sono dimesso da segretario del circolo del secondo municipio di Bari e annuncia l'ho fatto il 25 aprile per dare un segno. Le mie dimissioni hanno il sapore della resistenza, della libertà e del coraggio. La forza di lasciare un partito che a livello locale soffoca il pensiero divergente e non include chi si omologa le linee dettate dai maggiorenti. Ho guidato il circolo con rigore, creatività, dedizione, ha detto ancora, riportando alla partecipazione compagni e compagni che avevano smesso di vivere la politica. E qual è stata la mia colpa? Il sostegno chiaro e costante al candidato Laforgia. Sostengo Michele, spiega Biancofiore, dal primo momento perché mi piace la sua idea di Bari come comunità di persone, rete di relazioni, luogo pieno di potenzialità e di diritti. Sono con lui perché ha deciso di cambiare passo, partendo da quanto fatto negli ultimi vent'anni, pensando a politiche e pratiche differenti e innovative. Sempre la politica. Tramite un post sulla sua pagina Facebook, il segretario regionale del Partito Democratico pugliese, Domenico De Santis, ha commentato il mini rimpasto della giunta regionale pugliese proposta dal governatore Michele Emiliano. Ascoltiamo i dettagli. In queste settimane non abbiamo chiesto poltrone al presidente Emiliano per sistemare i conti del Partito Democratico, ma un rinnovamento dei nomi e della sostanza. Così si è espresso il segretario regionale del PD in Puglia, Domenico De Santis, commentando il mini rimpasto della giunta regionale pugliese proposta dal governatore Emiliano per dare un segno di radicale cambiamento, come chiesto dalla leader del PD, Ellie Schlein. Non siamo entrati nella scelta delle persone, cioè dei politici, perché è esclusiva prerogativa del presidente, ha continuato nel post social De Santis, ma ci impuntiamo sulle politiche nuove. Secondo il segretario regionale del PD, il partito potrà continuare a sostenere la maggioranza tramite l'approvazione della legge contro la violenza di genere, oltre a quelle contro la povertà, sul salario minimo, sull'edilizia sociale e con un grande piano previsto per l'edilizia popolare. Proseguendo il suo post su Facebook, De Santis ha fatto poi un riferimento all'anniversario della liberazione d'Italia del 25 aprile. Lavoriamo ogni giorno per mettere sempre l'interesse generale davanti a tutto, questo ci hanno insegnato i partigiani che hanno sconfitto il fascismo e hanno liberato l'Italia. E in piena libertà chi non è d'accordo lo dice, lo argomenta e ha spazio e ruolo nella nostra comunità, perché noi siamo un partito. Personalmente, ha scritto al termine del post, non voglio costruire il nuovo PD con chi difende i vecchi potentati o vuole crearne di nuovi, voglio costruire una classe dirigente nuova, dando valore ai luoghi di decisione del partito. Sabino Mangano, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che ha aderito a Oltre, sarà il quarto candidato sindaco. Gli altri sono Michele Laforgia, Vito Leccese e Fabio Romito, alle comunali di Bari, con una lista che ingloberà quattro movimenti civici. Lo ha annunciato lo stesso candidato con un post su Facebook, presentando il logo di Oltre, Movimenti Civici Associati. Andiamo avanti, nuovi sviluppi in relazione all'inchiesta a codice interno, che lo scorso febbraio ha portato a 137 arresti a Bari. La squadra mobile di Bari ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di Angelo Falco, conosciuto nel quartiere San Paolo di Bari come il re delle rapine. Tra le carte dell'indagine, gli incontri tra Falco e Giacomo Olivieri. Ascoltiamo. Era conosciuto nell'ambiente come il re delle rapine. Angelo Falco, 62 anni, ritenuto membro di spicco del clan Parisi e con precedenti giudiziari per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi da fuoco, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Bari nell'abitazione dove si trovava già in regime di domiciliari e portato in carcere. L'operazione rappresenta una nuova frangia dell'inchiesta cosiddetta codice interno. L'indagine della DDA e della squadra mobile di Bari che lo scorso 26 febbraio aveva portato all'arresto di 137 persone nell'ambito di presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria locale. Nel corso delle stesse indagini, la figura di Falco è risultata legata in particolar modo a quella di Giacomo Olivieri, avvocato ed ex consigliere regionale, arrestato nell'ambito della stessa inchiesta con le accuse di scambio elettorale politico mafioso ed estorsione in concorso. Dall'attività investigativa sarebbe emerso un incontro svoltosi a casa di Falco proprio tra quest'ultimo e Olivieri, nel quale l'ex consigliere regionale avrebbe proposto a re delle rapine investimenti finanziari palesemente illeciti e fraudolenti. Si tratterebbe in particolare dell'acquisto di una storica azienda barese specializzata in allestimenti fieristici che avrebbe permesso di ottenere finanziamenti bancari e fondi pubblici sui quali i due avrebbero lucrato. Un'operazione definita dagli inquirenti come ingannevole e illecita che sarebbe stata condotta da Olivieri attraverso una trama intricata di inganni e per fini personali e fraudolenti. Sempre la cronaca è stata respinta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari di Sandro Cataldo, accusato di corruzione elettorale in un'inchiesta che coinvolge anche sua moglie, l'ex assessora regionale ai trasporti Anita Mauro di Noia. Sandro Cataldo resta ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Bari ha infatti rigettato la richiesta della difesa di annullare la misura cautelare a cui era sottoposto dallo scorso 4 aprile. Il marito dell'ex assessora ai trasporti della regione Puglia, Anita Mauro di Noia, è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Per la procura di Bari, Cataldo avrebbe messo in piedi un sistema capace di inquinare il risultato di tre elezioni amministrative, quelle di Bari del 2019, di Grumo Appula e Trigiano nel 2020, oltre che delle regionali del 2020 in cui sua moglie, Anita Mauro di Noia, risultò essere la candidata più votata. Un sistema che secondo gli inquirenti era già pronto a riattivarsi in vista delle elezioni amministrative di Bari. I difensori di Cataldo, Mario Malcangi e Gianlucio Smaldone avevano chiesto l'annullamento dei domiciliari evidenziando che il quadro indiziario contestato dalla procura fosse insussistente perché secondo loro mancava sia l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale sia la corruzione elettorale stessa che se presente era attribuibile ad altri soggetti. La difesa aveva depositato al giudice del riesame una memoria di 44 pagine con numerosi allegati da cui sarebbe emersa la capillare attività politica svolta dall'indagato che non lo avrebbe mai portato a compiere reati. Cataldo è infatti anche il fondatore di Sud al Centro. Il movimento politico pochi giorni fa ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni amministrative e non sosterrà alcun candidato. Ci spostiamo in Basilicata, ponte del 25 aprile decisamente sotto tono dal punto di vista turistico per Maratea sotto accusa la non percorribilità della strada statale 18. Ascoltiamo i dettagli. Incertezze meteo e mancata riapertura di un attratto della strada statale 18 influenzano negativamente il turismo a Maratea. Il settore ha affrontato una ponte del 25 aprile decisamente sotto tono con un'occupazione alberghiera ferma al 40%. Nonostante la riapertura di un terzo delle strutture ricettive, le condizioni meteorologiche incerte, e la persistente chiusura di un segmento cruciale della SS18 hanno contribuito a scoraggiare i visitatori. Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, ha evidenziato l'assenza di una data precisa per la riattivazione del collegamento viario, fondamentale per il movimento dei turisti nella zona. Ha ricordato gli inconvenienti dei percorsi alternativi da Trecchina che hanno portato alla chiusura delle strutture durante le festività pasquali per evitare l'insoddisfazione dei turisti. Salerno ha inoltre rilevato che alcune strutture ricettive hanno cessato addirittura le loro attività negli ultimi anni a causa delle continue difficoltà. Il Consorzio Turistico propone l'istituzione di un assessorato al turismo a livello regionale per avere un punto di riferimento unico per gli operatori del settore, sottolineando la necessità di una gestione più efficace e coordinata delle problematiche turistiche. Si è ripetuta come ogni ultimo venerdì di aprile la Cavalcata degli Angeli al Santuario dell'Incoronata nel Foggiano. È al centro delle celebrazioni per la 1023esima apparizione della Madonna Nera. Ascoltiamo. Una tradizione che dura da anni e che si perde nel tempo. Evento più seguito delle celebrazioni dell'apparizione della Madonna Nera dell'Incoronata nel Foggiano. È la Cavalcata degli Angeli in ricordo della prima apparizione della Madonna sopra una quercia nel punto dove oggi sorge il Santuario, avvenuta nel 1001. Ma che cosa è folclore, tradizione, fede? Evviva Maria! Queste tre dimensioni che ha sottolineato ci sono tutte nella festa dell'Incoronata, perché c'è l'espressione di un popolo che crede, che ama e che spera. Da quando la Madonna è apparsa in questo luogo che ha reso Santo Benedetto per l'apparizione, è una folla innumerevole, una storia di fede, di tradizione, di cultura che ancora oggi si rivive nella settimana della festa. 26 carri allegorici per 14 compagnie provenienti da tutta la Puglia che girano tre volte intorno al Santuario. Come ogni anno propongono messaggi di fede e inclusione sociale. Perché il Vangelo comunque è umanizzante e Maria nei suoi messaggi proprio incoraggia sempre a riscoprire una fraternità. Il Santuario dell'Incoronata, la Madonna Nera, il popolo dei fedeli, crocevia tra Oriente e Occidente. E' ponte tra Oriente e Occidente, essendo la statua di origine orientale, portata qui, trasportata e lasciata in questo luogo. In questo contesto così delicato, bellico, che c'è tra Oriente e Occidente, dove si creano delle alleanze che, ahimè, speriamo non portino alla guerra, come si dice, mondiale, ma portino alla pace mondiale. E qua lei, madre di Oriente e di Occidente, affidiamo la pace universale. Lo sport, la squadra Under-19 Mater Volley Castellana ha vinto al Palagrotte il titolo regionale di categoria, accedendo così alle finali nazionali. Con un secco 3-7-0, i ragazzi della Mater Volley Castellana hanno vinto la finale del campionato regionale Under-19, accedendo così alle finali nazionali. A premiare gialloblu al termine della finale che si è giocata al Palagrotte di Castellana, anche il presidente del comitato regionale FIPAV Puglia, Paolo Indiveri. La squadra, allenata da coach Giuseppe Barbone, ha avuto la meglio sul Galatina, battuto 25-16, 25-14, 25-18. Non c'è stata quasi mai partita con i padroni di casa sempre davanti nel risultato e in controllo della partita. Adesso la Mater Volley Castellana-Grotte tenterà il colpo grosso nelle finali nazionali di categoria, in programma a San Giustino, in Umbria, tra poco più di due settimane, dal 14 al 19 maggio. Alle finali la Mater Volley potrebbe trovarsi di fronte anche il Galatina, che disputando la finale regionale si è comunque guadagnata l'accesso alle qualificazioni per la fase finale nazionale. All'ultimo atto a San Giustino arriveranno in tutto 12 squadre suddivise in quattro gironi da tre. Le prime due accederanno ai quarti, andando a compilare il tabellone che decreterà chi sarà la squadra campione d'Italia Under-19. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.